Ora, buonasera, sto riprendendo Svaldo che dopo i suoi soliti 20 minuti di ciclette adesso fa la yoga. Si dice lo yoga o la yoga? Lo yoga. Lo yoga, questo che posizione è? Fior di lotto. 20 secondi? Semplice, sì. Appunto fino a 20. Ma come l'abbiamo ridotto sto letto? L'avevo fatto stamattina. Mi sa che a me io devo... Sgranchire bene i muscoli. Ho chiuso anche il microfono con le dita, speriamo che ci sienta. Ok, le sgranchite i muscoli? Sì. Posso chiudere? Ciao a tutti. Ciao.